Dio professore, Roma non è per descrivere con parole, non con pezzi, non con foto, fotografie o bambini, anche se molti cercano di fare così, tra loro anche i più grandi. Ma sarò sempre davanti a tutti. Inafferrabile. I can here to develop what is the essence of Rome. Ci sentiamo completamente disarmati in questo edificio. Dovrebbero incontrarsi qui uomini e donne, scienziati e muse, Paul e Roma. Lo pago io.